8 aprile 2014, Gianni Colacione per LibriTV, siamo in compagnia di un consigliere municipale radicale eletto nella lista per Marino Sindaco, Davide Tutino. Davide Tutino è appunto eletto al consiglio municipale del settimo municipio, che stiamo seguendo con LibriTV, anche facendo le registrazioni dei consigli municipali, ed è mobilitato, Davide, per una battaglia, ovviamente come sempre proposta, sugli asili comunali, in particolare sono gli asili che sono convenzionati con il comune. Ecco, c'è stato un provvedimento che è stato discusso e votato oggi nel consiglio comunale, quindi è importante, ne parliamo appunto con Davide Tutino che ci illustra un pochino che cosa è successo. Cos'è successo oggi? È un momento importante, è una tappa importante della lotta non violenta che stiamo conducendo con gli asili nido di Roma. Cosa accade? Che a partire dalla giunta alemanno si è sostanzialmente da parte dell'amministrazione comunale appaltato l'illegalità agli enti che svolgono il servizio, ovvero si impongono degli standard molto alti di servizio, e questo chiaramente è giusto e comprensibile perché si tratta di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, quindi si impongono standard molto alti e si paga al di sotto di questi standard. Quindi cosa significa? Significa che i soldi che il comune nostanzia, le strutture devono trovarli sul mercato illegale, quindi facendo lavoro nero, quindi non rispettando le normative sulla sicurezza e così via. Questo è un fenomeno che era ben conosciuto dall'amministrazione, denunciato da noi e da Riccardo Maggi prima di questa avventura politica che ci vuole oggi nelle istituzioni con la lista marino e oggi si è arrivato al primo grande risultato di questa lotta non violenta che, è anche importante rilevarlo, ha una radice abbastanza profonda, cioè sono gli ultimi cinque anni in cui si denuncia questa situazione di illegalità appaltata dal comune di Roma coscientemente. Oggi che cosa si è andata a votare? La costituzione di una commissione indipendente che certifichi i costi reali del servizio e dei servizi all'infanzia. Sembra una banalità perché chiaramente un'amministrazione che appalta un servizio dovrebbe sapere quanto costa il servizio per poterlo pagare. Eppure questa banalità era stata dimenticata dal comune di Roma, dimenticata volutamente dalla giunta alemanno per poter far sì che gli asili lavorassero sotto costo e dovessero ricercare protezione da parte delle istituzioni e dovessero ricercare sul mercato illegale le risorse mancanti. Attraverso questa commissione si fa una rivoluzione di metodo e direi una rivoluzione radicale di metodo perché è chiaro che senza scienza non ci può essere coscienza politica. Se non si conoscono i dati non si può scegliere, non si può decidere. Oggi si è andato a votare questo e il che può diventare anche un grimaldello di prospettiva su tanti servizi che vengono appaltati dal comune di Roma e che vengono appaltati senza calcolarne prima i costi. A volte ciò si fa perché funzionino sotto costo, altre volte è molto facile immaginarlo perché ci si possa fare la cresta da parte chiaramente sia degli enti appaltatori sia degli enti che ricevono l'appalto. E quindi Davide su questa cosa non è da pochissimo che sei immobilitato, hai fatto anche un sedia gra, un digiuno e in qualche modo sei riuscito a ottenere qualcosa. Ecco, perché di questo digiuno e di questo sciopero della fame? L'amministrazione su questo non ci sentiva, non ci sentiva perché si è abituata per molti anni a dare per scontato il fatto che i servizi funzionassero così. fino a che abbiamo deciso di rispondere con uno sciopero della fame, mi sono assunto la scelta di dare corpo a questo dialogo delle istituzioni a spese del corpo del dialogante che era questa struttura che noi siamo come radicali Roma e che tentiamo con sempre maggiore forza di legalizzare Roma. Dopo dieci giorni di sciopero della fame si è arrivati alla presentazione in consiglio di questa mozione ed oggi al voto, con successo. Perfetto Davide, insomma seguiremo questa cosa, vedremo un pochino come evolverà. Speriamo bene ovviamente, sarebbe da chiedersi anche ai consiglieri del Comune di Roma dove mandano i figli, a che scuole. Questo è un aspetto importante perché si è dato per scontato che il servizio dovesse funzionare così lo si è dato per scontato a tal punto che è diventato la normalità per tutti. Lo scandalo dei radicali oggi nelle istituzioni a Roma, il vero scandalo è che i radicali trovano scandalosa l'illegalità con cui funzionano le istituzioni e questo è invece la norma di questo sistema. Ci sono invece oggi degli anticorpi in questo sistema, nel mio piccolo svolgo questa funzione, abbiamo la fortuna che un anticorpo molto potente l'abbiamo messo e ci aveva avvertito anche Emma Bonino che così sarebbe stato, dice cambierà il Consiglio Comunale con Riccardo Maggi nel Consiglio. E al motto anche un radicale fa la differenza, ringraziamo Davide Tutino e ci rivediamo ovviamente alla seduta del Consiglio Municipale Roma 7 e a presto. Su questo del Consiglio Municipale anche qui un discorso di metodo che dobbiamo ricordarlo. Perché il Consiglio Municipale del Municipio Roma 7 viene ripreso da Libri TV? Perché c'è stata la scelta radicale di mettere un gettone per questo ogni volta che significa affinché non si attua lo streaming che l'abbiamo fatto approvare anche, questo è importante, con l'appoggio di un movimento trasversale attraverso i partiti e con anche un ruolo importante dei 5 Stelle su questo. Ma chiaramente questa cosa poi va molto lenta nell'applicazione. Allora abbiamo detto chiamiamo e chiediamo alla voce libera di Libri TV di accettare, per un gettone che è veramente poco rispetto al lavoro che poi Libri TV fa, di venire e fare la ripresa indifferita del Consiglio Municipale del Municipio 7. Su questo ci sono oggi Davide Tutino, io perché vi parlo, e la consigliera dei 5 Stelle Monica Lozzi che si stanno assumendo l'onore e l'onere finanziario di sostenere questa iniziativa mettendo il proprio gettone a disposizione di questo. È qualcosa che rivendichiamo perché è di grande importanza di metodo, anche qui com'è di importanza di metodo la commissione sugli asili nido, perché senza scienza non c'è scelta politica e quindi non c'è coscienza politica e il risultato è l'Italia che abbiamo sotto gli occhi, priva di scienza e priva di coscienza politica. Grazie Davide Tutino Grazie a tutti